Non so perché Atrox Zed c'è diventato Brogan all'improvviso No 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 Fagiolini Allora Ezreal Ci c'è Trash Trash For me If you wanna wait for top Ce l'hai Trash Can I pick someone Trash Si hanno scammato il Darius Quindi che vuoi contro Darius Camille Set Conditioning Anno CC Non troppi Fonte vitale mi piace Si Attack speed mi piace Si Armature mi piace Si Loro dovrebbero giocare Karma bot Immagino Karma o Braum Braum è forse il più più forte Ione Ci sta Swain E' un bel pick qua Swain Sai Lo è davvero? Lo riusciamo a killare? Secondo me si Poi ci abbiamo anche Trash Che Comunque Con la lanterna Leva gente Dalla sua ultimate Oddio guardate ragazzi C'era chi Eh niente Non si vede più Attack speed Le autoattacchiamo questi Secondo me non troppo Riesco cooldown reduction Fonte vitale O CC O CC C'è il CC Di Swink C'era leggermente fastidio Ma nemmeno troppissimo E Sara Slow No mi tengo questo Eh prendo pure Magia Existence Forse ho gridato un po' Troppo Troppe difensive Di la rune We are Don't turn away No Trash counter Zira Sì Perché anche se L'utilizzerai Lo segui E in generale Mi piace molto Come pick Perché è molto Flessibile Mi dà la possibilità Di fare tante cose L'hanno rifatto Tantissimo Negli anni Come pick Prima era ancora più forte Però la gente Giocava anche Leggermente peggio Io Ad esempio Lo gioco bene Ma la è Impossibile Hittarla L'ha messo spessissimo E Giocavo questo Dai Anzi no Giocavo questo E Ah no Giocavo questo Poi Andiamo per La Mid lane Bot Easy To kill Tristezza Appalate Poteva esserci qualcuno Là dentro Da Sì Rischiata Anche qui dentro C'è qualcuno E' improbabilissimo Se c'è qualcuno Là dentro Ma senza Verne leggere e scrivere Minione Minione In azione Ottiene un grab Quanto mi costa Toggiamo Eventuali Skishot Oh ma non c'è nessuno Allora Vediamo se riusciamo a doggere Delle abilità O meglio Abilità Ai 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 Volevo Abilità Le swing Ma Non abbiamo Niente Penso All' Ezreal Senza che com'è Bravo Ok Le abbiamo Doggiate Proviamo però A combattere Per il push Non possiamo Lasciarci pushare Così facilmente Allora C'è un buco Sì No C'è un buco Vai Un buon trade Non so perché Abbiamo preso Il ricaricabile Sicuramente La scelta Che è da parte Sua Allora Se si crea Un buco Possiamo C'è Ho perso Purtroppo Saras Ma Immagino Che sia Topside E C'è un buco C'è qualcosa Becchiamo Becchiamo Ok Mi da fastidio Via C'è un buco La No 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 Vorrei ingaggiarli ma Troppi meno Dopo quello Forse Ah Tra l'altro C'è un buco Mi sa che ora si crea un buco Buon Entrami da Parla Mirada del cuo Vabbè Ci fida Lilia Che può carriere la partita Dai Lilia Grosso è bene Poi loro in botte Moriranno Facilmente Bot They will Terma die No Sam's Bot Lilia Can 1v9 Top Ne devi stare attenti Dobbiamo girare per botte Aspetta qua Non l'ammazzo Non l'ammazzo Torniamo bot lane Tzailas Top side Pinchiamo qua dentro Guardiamo qua Muore 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 Ah Peccato Che dato Molto complicato Con l'aiuto di Kaiser Era morto Così era un uno contro uno Allora Ci potrebbe essere Saras bot lane A breve Quindi giochiamo passivi Vanno bene questi trade Ma io non posso mai ingaggiare Ma la stupidaggine Ma guadagni un sacco di pressure Con questi explash Perché loro utilizzano Due abilità fondamentali Quindi puoi farmare con sanità Per almeno 5 secondi Lo sguena anche di più Mamma mia che cugati Il bambino Muore Non deve morire Io ho un altro lato Non so Di cui muore Speriamo Muore anche Kali Shutdown No ma Lilia fa 1v9 E possiamo fare qualcosa qui Ma era carina Come è andato Uno io lo nego Così Per rompere il cazzo Oddio Ti do soldi Dall'altro lavoro Quindi non so Mi conviene Mi faccio Mercoli No Tabi Sì Hanno 3 AD E questo L'ho d'attacco Ingaggeremo Se c'è Sars Che facciamo A fare quelle cretine Chi ha preso il drago Lilia Lo sanno Ok Allora Mi faccio Sì Ricordiamo con i tabi È un bel back Non è un bel back Per il semplice fatto Che È un semplice fatto Che siamo contro AP Lui fa danno magico Non è un bel back Per l'early game Allora Loro sono top Se li ingaggio Muoiono Tutto bello Lì è grossa Il game è tosto Debi non mi piacciono Per niente Mi ha preso pure Ed è morto Il nostro carico Incivale Dai che la finisce Bene Molto bene Mi si è baggato L'exo Ci potrebbe uccidermi Super close Sono sempre Un centino Dalla Mazzaro Guarda che con il flash Era morto E' super close Come cosa Sapevo che si è ben finita male Ok Resettiamo Le dure Non si vengono Le sinergie Si sta afflammando Sicuro Beh Se l'ho mutato C'è un motivo No Faccio i tab E siamo back Riferisco questo Riferisco gli HP Perché veramente I tab Early game Contro il loro team Mi fanno Cagare Più caldo Dovevamo regolare Prima Quello è stato L'errore principale Che poi ci ha portato A questa situazione Scomoda Ma abbiamo pensato Al fatto che su Non ci potessi Interrompere facilmente Mora Mora Guardiamo che sono shot down No Prima Bottlin Quello prendo io Ah perché volava che la frizzasse Ah ci sta Eh ma non stiamo giocando bene Questa partita Abbiamo un po' mollato Possiamo ancora vincerla Qui c'è un grabbino carino Ah ma siamo a zero No 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 Ci fa male tizio Vorrei giocare Ma non stiamo giocando Qui però si può vincere Sul 2v2 Lei non è il flash Ci servirebbe Sicuramente no Ci piace Ci piace Quando metto in discussione Il gioco Sui nostri grab È sempre motivo Di grande gioia Muore No Sbaglio sempre Quest'è di merda No Uffa Lo sbaglio ogni volta Mi trovo di allenare un attimo Questa Pw ci rubiamo De assist Usarla A voi Porco giuro Il game c'è Dopo quella roba Potrebbe essersi spezzato Qualcosa Alla loro Porecina Ora ci siamo Potrebbe stopparmi Swain Di nuovo Mi faccio i tab Mi faccio subito il locket Mi faccio il locket Ragazzi Perché vi ripeto I tab Mi fanno schifo Non voglio fare i tab Contro Swain Non voglio fare i tab Contro Ezreal Non voglio fare i tab Contro Silas Non è uno spike Il locket è un grande spike Invece Peccato Muore Si chiude la vena C'è qualcuno Ho fatto troppi bulli C'è un buco Ok Ai 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 Non ci ho pensato Mi sono proprio Dimenticato Ezreal era morto Però noi abbiamo Staccato il cervello Dalla minimappa Questa è la prima volta Che succede oggi Quello non muore Meno male che Non muore a me Cale la bot Vai Accettate la bust Così muore Nice Nice C'è un buco Dai che lì è la caga Questa partita Possiamo uscire un'altra Non puoi E vai Wardiamo Andiamo mid lane Questa è gran Jump Campino Quella c'è il blue Ok Io sono mid lane Alleluia Alleluia Grabo Grazie amore Cos'è Pond e cappari E sugo Ragù Mi sto andando usando Ah ok Ti sento Ragù 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 con i piselli L'ostrella L'ostrella Romaggio E ciugno Quando pensi al mangiare Le peccine C'è 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 Che angolo Di merda Andiamo a prendere un altro Fossi lì La sarei terrorizzata Ma se mi piacessi Sì mercuri Mi faccio i mercuri Ho detto tutto il tempo Che i tabi mi fanno cagare Perché mi devo fare i tabi Alla fine A DC C'hanno Ione e Darius Che ci ammazzano Ma Darius Ci autoattaccherà Non così spesso Ma li devo fare anche prima La torre mid l'abbiamo presa Dai Un giorno male Un giorno male Perché vado Lei sta intando Anche case tiltata Io qui muoio Gran bel dodge Ah che caccio Ciao Paolo Come vanno le chemi Spero di venire in bacio Ah in mezzo Paridiamo Allora 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 We need Yala reduction We need Yala reduction Me la faccio io Mi faccio la Tormel Ma non mi ci metto Un sacco a farma Abbiamo bisogno di Yala reduction Baron 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 Guarda dove si è messa A casa Giusto per aumentare le chance Che si è spottato Ok 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 Questa è da prendere Ragazzi Mi voglio curare Per fortuna Questa app È piena di cure Questo è un buon lavoro Dai che ci muove Dario Scatto Era troppo importante Che morisse Dario Muore Yala sta aspettando Come una cretina Non ci muore È contenta Ha smarfato Invece Non l'avrei immaginato Yala Però lei ha delle Ha delle informazioni Che non possengo Ok Non volevo rischiare Di ricollare Senza il baro Non volevo rischiare Ma porco due ciammenate non ti passa alvar C'è il dragon 40 secondi C'è questo da prendere e il drake Giusto? C'è il dragon 40 secondi C'è il dragon 40 secondi C'è il dragon 40 secondi E poi mi faccio l'abyssal mask Quanti più abbiamo? Wow questo è un coglione E' un coglione che mi viene premiato Come uno che si infile il peperoncino nel culo Gli danno 10 euro Allora dobbiamo rimanere qui per Per dare visione a questo conto dura Ho fatto una cazzata e non sono stato ancora premiato Oddio a chi è l'ho preso io l'antenne E' un coglione che mi viene a chi è l'ho preso io l'antenne Mincia Direi riduco di tanto le cure dunque No Non va bene Troppo poco No Ho buttato un oggetto Per l'ennesima partita Io in pratica ragazzi Gioco senza saper buildare Che sia motivazionale questa frase per voi Eeeh Vabbè Vabbè Non abbiamo Lilia Reportiamo Caixa Mamma mia se era tossica Ha fatto pure il feeding intenzionale Farmi raggiungo un attimo